Si conclude così il terzo quarto di finale del mondiale 2018 e dopo le vittorie di Francia e Belgio anche l'Inghilterra arriva in semifinale dopo ben 28 anni di distanza dall'ultima volta che ci erano arrivati. Vincono per 2-0 contro la Svezia grazie ai gol di testa del difensore Maguire e di Dele Alli, sempre più giocatore rappresentante della nazionale inglese e appunto, come già detto, tornano in semifinale e sognano un possibile approdo in finale che non gli esce, non gli esce comunque, non gli ricapita da quando l'hanno vinto nel 1966. Devo dire che per lo spettacolo della competizione è molto meglio che sia passato l'Inghilterra perché una Svezia in semifinale non so quanto avrebbe potuto fare contro o Russia o Croazia. Alla fine però se fossero passati non gli si poteva dire niente perché si sono arrivati in quarti di finale, qualcosa di buono l'hanno dimostrato, però sono convinto che Inghilterra-Russia o Inghilterra-Croazia potrebbe riservare più spettacolo rispetto a qualora si fosse qualificata la Svezia. Questa partita, devo dirlo, non mi ha entusiasmato parecchio. È stata una partita molto tattica con le due squadre che si sono chiuse molto bene e hanno cercato di ripartire in contropiede. L'Inghilterra ha mostrato maggiore tasso tecnico e soprattutto si è affidata alle parate di un strepitoso Pickford che si conferma insieme ai vari Courtois, Yoris eccetera eccetera, come uno dei tanti portieri ad aver fatto prestazioni incredibili in questo mondiale. Mondiale caratterizzato dagli autogol, dai rigori, dai gol all'ultimo secondo e dai miracoli del portiere. Per quanto l'Inghilterra per me abbia assolutamente meritato di vincere questa partita, gran parte del merito è anche proprio del portiere Pickford perché se non fosse stato per le sue parate, adesso non so se la Svezia sarebbe passata o altro, però sicuramente ha contribuito a mantenere il risultato tranquillo dall'inizio fino alla fine. L'Inghilterra che è riuscita a sbloccare nel primo tempo, come ho detto, con un colpo di testa del difensore Maguire e poi è riuscita a concretizzare e a segnare il raddoppio nel secondo tempo, al 59esimo. Nonostante il gol sia arrivato a mezz'ora dalla fine, io sinceramente ero convinto che sarebbero passati comunque perché si vedeva che erano in controllo della partita e nonostante qualche sfuriata all'improvviso degli svedesi che però in generale non sono andati convinti più di tanto, alla fine l'Inghilterra ha controllato con agevolezza ed è arrivata quindi alla vittoria finale. Mi aspettavo qualcosina di più da Harry Kane che ha fatto una buona partita ma non particolarmente eccezionale, mentre invece l'unico che si può dire mi ha leggermente deluso dell'Inghilterra è stato Sterling che ha avuto una ghiottissima occasione a fine primo tempo di segnare il gol del raddoppio ma l'ha sprecata malamente e in generale non mi è parso particolarmente convinto in questa partita. Mentre invece dalla Svezia devo dire che considerando appunto che il loro livello tecnico è quello che è, per me hanno fatto il massimo, cioè non c'è un giocatore che ha deluso particolarmente perché comunque loro più di quello non possono fare e quindi hanno secondo me dato il massimo. Come ho detto sono contento che sia passata l'Inghilterra. Adesso non so se sperare che vincano loro o altre, alla fine a me non importa niente, per me l'importante è che tutte vincano tranne la Francia. Per me può vincere il Belgio, la Russia, la Croazia, l'Inghilterra, tutte possono vincere tranne la Svezia che è uscita e appunto la Francia. Vedremo un po' come si evolverà questo mondiale, adesso ci resta da scoprire quale sarà l'ultima squadra che parteciperà alle semifinali, però o che sia Russia o che sia Croazia, ci aspetta una semifinale veramente molto avvincente. L'Inghilterra secondo me sta confermando un grandissimo percorso e il fatto è che sono arrivati in semifinale dopo 28 anni non è un caso perché comunque rispetto all'altra annata si vede che anche per squadre mediocre affrontate stanno facendo meglio. Con questo non voglio dire che loro sono arrivati in semifinale solo grazie al livello mediocre degli avversari perché comunque gli avversari sono scarsi ma l'Argentina, queste squadre qua hanno testimoniato che i valori tecnici contano fino a un certo punto e tu gli avversari anche se so più deboli tecnicamente devi saperli battere e per me l'Inghilterra fatta eccezione per ovviamente per la sconfitta col Belgio e la vittoria sofferta con la Turchia, comunque sempre vittoria, ha sempre dato dimostrazione di grande forza e per me si sono meritati ampiamente questo accesso in semifinale. Come ho detto non so se la vinceranno però finora secondo me possono essere assolutamente soddisfatti e sperare dopo più di 50 anni di vincere un nuovo mondiale visto che nella loro storia ne hanno vinto uno soltanto nel 1966. Detto questo ragazzi questa era una piccola recensione di questa partita poi questa sera arriverà a casa mia più approfonditamente la recensione anche dell'ultimo quarto di finale tra Russia e Croazia fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di questa partita chi secondo voi è stato il migliore ed il peggiore ci vediamo sempre alla fine ci vediamo presto per un altro video lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto un saluto e sempre comunque forza Roma ciao ragazzi